ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial no ecco ci vuole il cappello ora sì ora posso dire ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi punto it senza cappello non è la stessa cosa è halloween passato e mi sono venute in mente due cose in questi giorni la prima è di realizzare una clip dedicata proprio a questa festa statunitense che abbiamo importato in italia in maniera così arrogante negli ultimi vent'anni e vabbè ci ho pensato ho iniziato a lavorare a questa clip e poi ho abbandonato completamente l'idea la seconda idea invece che mi è venuta è quella di farvi di lanciarvi una sfida una di queste sere ci vedremo qui su youtube e voi mi darete un titolo un genere e io in due ore realizzerò una clip da 30 secondi con premiere pro solo con gli effetti di premiere pro e con clip trovate online gratuite un po per mettermi alla prova e per permettervi di prendermi in giro per la difficoltà che troverò nel lavorare ad una clip completamente improvvisata un po ed è il motivo più vero è per mostrarvi come si affronta un progetto partendo da zero anche se in realtà normalmente i progetti di montaggio si affrontano con un'idea già ben costruita e con le fondamenta solide però ecco per gioco potremo provare ad improvvisare completamente il montaggio di una clip così cotta e mangiata vi darò maggiori informazioni è un'idea che già ho lanciato sulla mia pagina facebook quindi venite su facebook per sapere quando e come avverrà questo evento seguitemi anche su instagram cercatemi fabio ambrosi anche lì darò maggiori informazioni detto questo veniamo al tutorial di oggi perché si ho il cappello e quindi c'è un tutorial che vi aspetta oggi parleremo della grafica essenziale in premiere pro perché perché premiere versione dopo versione continua ad aggiornare la grafica e gli strumenti per lavorare con la titolazione in una clip video comincia ad abbandonare strumenti vecchi anche se io considero meravigliosi in favore di nuovi strumenti che adobe considera più performanti e migliori chi avrà ragione non lo so lo scopriremo solo con il passare degli anni ma ho avuto l'esigenza il pensiero di mostrarvi come lavorare con i titoli e con la grafica in premiere pro perché le cose negli ultimi anni sono un pochettino cambiate e vedremo oggi in che modo prima però vi ho detto una piccola bugia perché io in realtà una piccola clip l'ho preparata piccola piccola clip video per halloween o meglio l'ho preparata la stavo preparando poi ho mollato tutto però voglio mostrarvi a che punto ero arrivato prima di mollare completamente il progetto un pochettino Ok, questa era l'idea, poi l'ho abbandonata, bisognava lavorarci un pochettino con le transizioni, con gli effetti audio e con tante altre cose, però ecco da qui mi è venuta in mente l'idea di fare la sfida su YouTube di cui parleremo nelle prossime settimane. Intanto cancelliamo tutto e ricominciamo da capo e concentriamoci sull'argomento del tutorial di quest'oggi, ovvero la grafica in Premiere. Le cose sono cambiate, perché? Perché fino a qualche anno fa c'era uno strumento fantastico che era la titolatrice, ok? Era uno strumento fantastico, lo dico al passato, perché Adobe la sta dismettendo. Dimostrazione è che quando andate a lanciare questo strumento, in file, nuovo, titolo precedente, potete ancora creare un titolo precedente, per esempio text demo, ma guardate quale avviso vi compare. Ole! Adobe ci informa e ci dice, attenzione, la precedente funzione titolazione di Premiere Pro verrà terminata. No! La maggior parte delle sue funzionalità e alcune nuove, speriamo tutte, e alcune nuove funzioni molto interessanti sono già disponibili nel pannello grafica essenziale. Nei prossimi mesi affronteremo le lacune, e ce ne sono, aggiungo io, rimanenti, per offrirvi, per offrirti tutti gli strumenti di cui hai bisogno. Se non lo hai già fatto, ti invitiamo ad esplorare i nuovi strumenti di titolazione nel pannello grafica essenziale, per ulteriori informazioni visita questo link che ci mette a disposizione, oppure seguite fabbiambrosi.it, questo non lo hanno detto, ma ve lo dico io. Eccola, questa era la vecchia titolatrice. Era uno strumento molto bello, come dicevo, perché qui c'erano un po' racchiusi tutti gli strumenti per lavorare con la grafica in Premiere, si potevano fare titoli verticali, titoli che scorrevano, c'erano tantissime opzioni, tanti preset con cui si poteva giocare, eccetera, eccetera. Premiere assicura, o meglio Adobe assicura, che questi strumenti verranno portati tutti nella grafica essenziale e noi speriamo che ciò accada. Comunque la certezza è che questo strumento, nei prossimi mesi, verrà dismesso da Premiere, quindi noi lo chiudiamo e non lo utilizziamo, ma affrontiamo direttamente il nuovo strumento che è la grafica essenziale. Per lavorare con la grafica essenziale vi consiglio di cliccare sul bottone grafica che trovate qui in alto perché questo preset ci apre tutti i pannelli di cui abbiamo bisogno appunto per lavorare con la grafica essenziale. Se state seguendo questo tutorial, per seguirlo fate quello che faccio io, andate anche in finestra, spazi di lavoro e ripristino al layout salvato, in maniera tale che se in passato ci avete lavorato e avete chiuso qualcosa per sbaglio, lo ritrovate aperto così come è preconfigurato in Premiere. Cos'è la grafica essenziale? Beh, come dicevamo, è uno strumento che ci permette di lavorare con la grafica in Premiere. Il pannello più importante di questo strumento appunto è il pannello della grafica essenziale che trovate qui sulla destra ed è diviso in due colonne. La prima ci permette di accedere ad alcuni template già preparati da Adobe e che possiamo utilizzare graficamente e modificare liberamente. Il secondo pannello che si chiama modifica ci permetterà di modificare la grafica che noi poi andremo a creare oppure che andremo ad utilizzare direttamente da questi preset. Per esempio, scegliamo un preset, questo che potrebbe essere un bel sottopancia, lo prendiamo, clicchiamo con il tasto sinistro del mouse e lo trasciniamo in timeline. Premiere comincia a importarlo ed ecco il nostro semplicissimo sottopancia importato e pronto all'utilizzo. Possiamo personalizzarlo? Sì, lo selezioniamo dalla timeline, automaticamente viene selezionato il pannello grafica essenziale, ovviamente la tab modifica. Noi qui possiamo modificare il testo e la forma perché questa grafica essenziale è composta da due livelli. Cominciamo a parlare di livelli, un livello di testo e un livello di forma. La forma ovviamente è questa che vedete qui in basso, il rettangolino blu, mentre il testo ovviamente è la didascalia immagine. Noi clicchiamo per esempio sul testo, sul livello testo e vedete che abbiamo accesso a tante opzioni per lavorare con il testo. Tra cui per esempio la possibilità di modificare il font, la pesantezza del font, il paragrafo, la dimensione del carattere. Possiamo modificare il riempimento, quindi il colore. Se lo vogliamo per esempio per qualunque motivo rosso abbiamo cambiato il colore di questo testo. Possiamo aggiungere dell'ombra, possiamo aggiungere un bordo, possiamo giocare un po' come vogliamo con il testo. Lo vedremo meglio più tardi. Il livello forma invece, anche questo, ha delle proprietà. Per esempio il riempimento. Il riempimento è una sfumatura che va dal blu al trasparente sostanzialmente. O meglio, dal semi-trasparente al trasparente e dal blu al trasparente. Ed è un po' l'effetto che abbiamo qui. Questo per mostrarvi cosa, che la grafica essenziale sostanzialmente è formata da livelli. Entrambi i livelli stanno nello stesso oggetto. Come potete vedere in timeline abbiamo un solo blocco, un solo elemento, e questo elemento contiene dentro due oggetti, due livelli per meglio dire. Quindi abbiamo un testo e una forma geometrica. Possiamo modificare il testo? Sì, selezioniamo ovviamente sempre, selezionate sempre quando dovete modificare l'oggetto in timeline. Premete il tasto T di Torino sulla tastiera per accedere allo strumento testo. Eccolo qui. E potete vedere che potete scrivere quello che volete. Per esempio Fabio, o meglio, Fabio Ambrosi. E abbiamo così il nostro fantastico livello testo modificato. Bene, questa è una grafica che abbiamo adoperato, abbiamo preso, tra quelle già disponibili. Ma cosa fare se noi volessimo creare una grafica partendo da zero? Bene, semplicissimo. Puliamo la timeline. Facciamoci un po' di spazio. Spazio sempre importante per lavorare. Vi consiglio sempre di utilizzare due monitor se ne avete la possibilità. Sempre con lo strumento testo selezionato. Se vogliamo aggiungere un testo. Clicchiamo all'interno del nostro monitor programma. E scriviamo per esempio Ciao mondo. Ok? Come noterete in timeline viene creato un nuovo blocco, un nuovo elemento. E questo elemento avrà un solo livello, come potete vedere. Il livello testo che abbiamo appena creato. Il concetto di livelli nella grafica essenziale di Premiere è molto importante. E non dovete confondere i livelli con le tracce. Quelle della timeline sono tracce. Traccia V1, V2, V3, A1, A2, eccetera, eccetera. Quelli dentro ad un elemento di grafica sono livelli che possono stare uno sopra l'altro. Come abbiamo visto nel caso di prima. Qui abbiamo aggiunto un livello testo. Sempre mantenendo selezionato il blocchettino della timeline, quindi questo elemento. Andiamo sulla voce grafica, nuovo livello. E aggiungiamo questa volta per esempio un rettangolo. Vedete che questo rettangolo, questa nuova forma geometrica, viene aggiunta sopra al livello testo. E quindi, di conseguenza, torniamo sullo strumento selezione, lo strumento, l'oggetto rettangolo copre il nostro testo. Se io voglio portare in secondo piano la forma geometrica, la trascino dal primo posto al secondo posto e vedrete che il testo sarà sopra alla forma geometrica. Ecco perché qui parliamo di livelli. Un po' come in Photoshop e un po' come in After Effects, ok? Queste in timeline sono tracce, questi sono livelli. I livelli possono essere spenti o accesi. Un po' come siete già abituati, penso, a lavorare in Photoshop se lo utilizzate. Bene, anche il livello della forma geometrica ha le sue proprietà, quindi possiamo cambiare il colore. C'è poco da spiegare qui, c'è solo da provare e prendere le misure. Potete ridimensionare il rettangolo che avete appena creato, ok? Potete spostarlo se preferite, potete spostare anche il testo se preferite e creare così la vostra grafica su misura. Ci sono due posti dove potete andare a lavorare con la grafica essenziale in Premiere. Uno è utilizzare questo comodo pannello, appunto pannello grafica essenziale. L'altro è utilizzare il pannello del controllo effetti. Se guardate il pannello controllo effetti, noterete più o meno le stesse cose, forse disposte un po' in maniera più disordinata. Quindi il mio consiglio è di utilizzare sempre qui il pannello della grafica essenziale. Se dovete animare le cose, ovviamente potete utilizzare e dovete utilizzare il pannello controllo effetti, perché ricordo che vale sempre la solita regola. Ciò che ha un cronometrino è animabile, quindi se questo testo vogliamo farlo muovere da sinistra verso destra, è chiaro che dovete aggiungere dei keyframe. In questo caso a cosa aggiungerete i keyframe? Al livello o all'intera grafica? Qui sta a voi. Se voi volete muovere tutta la grafica insieme e contemporaneamente, animerete la proprietà posizione di tutto l'oggetto grafica essenziale, ok? Quindi in questo caso animerete tutto il blocco. Se però volete animare un livello separato dall'altro, potete accedere alle proprietà del singolo livello, quindi testo, forma, ricordate quello che abbiamo visto prima? Se andiamo ad espandere, troverete un po' le opzioni che avete visto prima, ma troverete anche la possibilità di muovere il singolo livello in maniera separata dagli altri. Quindi c'è il nodo trasformazione e in questo caso ne stiamo muovendo soltanto il testo. Forse è un po' confuso quello che ho spiegato, spero sia chiaro. Fate un po' di pratica e capirete che è tutto molto semplice. C'è la proprietà posizione dell'intera grafica essenziale che muove tutto e poi ci sono i singoli livelli che possono essere animati in maniera singola, ok? E c'è il nodo trasformazione che ci permette di fare questo. Come si anima? Dai, lo abbiamo visto già nelle precedenti lezioni. Mettiamo un keyframe, mettiamo un secondo keyframe, mandiamo in play ed ecco che l'animazione è fatta. Non mi dilungo troppo su questo perché non stiamo qui a parlare adesso di animazione. Il concetto però è sempre quello che abbiamo imparato nel corso introduttivo a Premiere Pro. Se avete domande commentate questo video, mi raccomando, scrivete qui sotto i vostri dubbi, ditemi se è chiaro quello che sto dicendo, se qualcosa non è chiaro chiedete, magari poi faremo un video a parte per integrare questo. Quindi ricapitoliamo, è animabile tutto quello che ha un orologino, ok? Ok? Attenzione a quando aggiungete un nuovo livello, ad assicurarvi di avere selezionato in timeline l'oggetto su cui state lavorando. Perché dico questo? Perché se il blocco in timeline è selezionato, quando voi aggiungete del testo o aggiungete un nuovo livello, per esempio vogliamo aggiungere un'ellisse, state aggiungendo un nuovo livello alla grafica essenziale presente su questo blocchettino di materiale, ok? Se però l'elemento in timeline non è selezionato, per esempio così, e andate ad aggiungere un nuovo livello, Premiere crea un nuovo oggetto in timeline. Per esempio, nuovo rettangolo, vedete? Ha creato un nuovo rettangolo, ma attenzione, questo rettangolo ha un solo livello, perché è un nuovo oggetto in timeline. Ecco perché, vi dicevo, è importante selezionare sempre l'oggetto a cui volete aggiungere della grafica essenziale, perché altrimenti andrete a creare un nuovo elemento, ok? Spero sia chiaro questo concetto. Si possono fare tante cose con la grafica essenziale, si può ed è interessante anche importare progetti After Effects direttamente in Premiere Pro, non lo vedremo quest'oggi, ne abbiamo parlato nel corso introduttivo. A proposito di corso introduttivo, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni ai corsi dal vivo di Premiere Pro che sto organizzando, sono corsi in cui impareremo ad utilizzare Premiere un po' come se voi vi trovaste in un'aula, ok? Parleremo di tutto quello che abbiamo già parlato all'interno dei corsi di questo canale YouTube, con la differenza però che io sarò fisicamente presente e potrò vedere voi quello che fate condividendo i vostri schermi e potrò magari rispondere alle vostre domande in maniera un pochettino più dinamica di quanto io possa fare in questi video registrati. Quindi se volete partecipare al corso live dal vivo a distanza di Premiere Pro mandatemi un'email a info-fabbiambrosi.it e pre-registratevi oppure venite sul sito internet fabbiambrosi.it anche lì cercate il modulo dei contatti cliccando in alto a destra la voce contattami e scrivetemi per pre-registrarvi. Sì, lo so, il corso ha un piccolo costo di 350€, lo dico subito. Il costo serve sia per sostenere il progetto che mi permette di creare dei tutorial gratuiti, ovviamente, e sia per permettermi di seguirvi in maniera un po' più attenta di quanto qui rispondendo solo ai commenti. Quindi io vi consiglio, se avete voglia e volete investire un pochettino delle vostre risorse e un po' di tempo a questo corso di Premiere perché impareremo queste cose e molte altre ancora. Quindi ricapitoliamo info-fabbiambrosi.it o cercatemi sul sito internet www.fabbiambrosi.it Torniamo a noi, torniamo ancora alla grafica essenziale perché prima di salutarci voglio mostrarvi un'altra cosa, voglio mostrarvi come sia possibile animare un testo stile titoli. Avete presente i titoli di coda dei film che scorrono dal basso verso l'alto, cose così? Bene, è possibile farlo ovviamente anche con Premiere Pro. Con la titolatrice era già possibile farlo già da 15 anni in realtà, però come dicevo all'inizio le cose sono cambiate nelle ultime release del software e quindi la possibilità di muovere il testo in verticale, anche questa, si è modificata. Facciamo un esempio. Voi per partecipare al mio corso, partecipa al corso Premiere Pro e poi scriviamo, non so, scrivi o meglio invia una email a info, chiocciola, ah non fa la chiocciola, ecco, se vi trovate in una situazione simile alla mia ovvero che non riuscite a creare una chiocciola per qualunque motivo perché forse il font non la supporta o qualunque problema potete utilizzare un piccolo stratagemma. Andate su un browser o su un notepad, la stessa cosa, disegnate una chiocciola, fate copia e incolla. Normalmente questa tecnica funziona, quindi andiamo su incolla o dove è incolla, non c'è, ctrl v, non delude mai, ecco qua. E abbiamo in questo modo risolto, dicevo un'email a info, chiocciola, fabioambrosi.it o visita il sito www.fabioambrosi.it ipotizziamo di voler animare questo testo dal basso verso l'alto. Beh, per esempio potremmo centrarlo, quindi paragrafo centrato, allineiamo, vedete come tra le opzioni del testo ci sia anche la possibilità di centrare tutto in maniera abbastanza rapida al centro del nostro fotogramma, cosa molto molto comoda. ipotizziamo di voler aggiungere anche un logo, per esempio il logo fabioambrosi.it sopra a tutto. Ecco, non vi ho detto, ma nella nuova grafica essenziale di Premiere Pro non possiamo solo creare del testo o delle forme geometriche, ma sempre selezionando il nostro livello perché vogliamo animare tutto insieme, possiamo anche aggiungere una grafica da un file esterno. quindi per esempio andiamo su grafica, nuovo livello da file, scegliamo il logo che io voglio importare, eccolo qua, gigantesco anche questo, seleziono il logo e ovviamente io il logo posso, eccolo qui, ovviamente il logo posso scalarlo, ridimensionarlo, muoverlo, posso giocarci un po' come voglio, ok? È un elemento di grafica presente dentro a questo blocchettino ed è un nuovo livello a tutti gli effetti, quindi possiamo prendere questo elemento, anche questo elemento può essere centrato, vedete ci sono sempre le opzioni, lo centriamo in orizz... no, ok, lo centriamo in orizzontale, ecco qui, e ipotizziamo di voler muovere... vediamo se possiamo... no, pensavo si potessero centrare automaticamente due blocchi insieme, no, ok, ipotizziamo di voler muovere e animare questa scritta dal basso verso l'alto. Come fare? Deseleziono entrambi i livelli in maniera da accedere alle proprietà non del singolo livello ma dell'intera grafica essenziale e se guardate qui in basso c'è grafica reattiva trattino tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci viene data la possibilità di animare questa grafica tutta insieme, quindi clicchiamo su scorrimento verticale, ok, vedete che c'è una sorta di maniglia che ci permette di avere una sorta di foglio più lungo del nostro fotogramma e già così se io andassi all'inizio della mia clip e mandassi in play vedrei la scritta correre. Come si fa a rallentare? Amici, ricordiamo, basta allungare la durata della clip e la nostra clip sarà molto più lenta o meglio la nostra scritta sarà animata in maniera molto più lenta. Diminuiamo la lunghezza della nostra clip e l'animazione sarà molto più veloce, ok, forse è quello che voglio. Anche qua ci sono un po' di opzioni con cui potete giocare, c'è la possibilità di avere un pre-roll, un post-roll, un ingresso graduale, un'uscita graduale ed è interessante questa possibilità perché abbiamo appunto modo di creare effetti di serpentone, ok, dall'alto verso il basso. Ok, se volete invertire la velocità, la direzione invece che dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso credo che al momento sia un po' uno di quei limiti di cui parlava Adobe nel messaggio precedente, ok? Quindi se volete creare uno scorrimento diverso da quello che state vedendo credo che al momento l'unica opzione possibile sia utilizzare ancora la vecchia titolatrice dove c'era la possibilità di avere delle opzioni di scorrimento, se volete, un pochettino avanzate. Vediamo se le ritrovo, eccole qui, no? Potevate creare un serpentone da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso, quindi credo che queste possibilità debbano essere ancora trasportate dentro alla grafica essenziale, ma nei prossimi mesi credo sia possibile animare il movimento di questo titolo anche in altre direzioni. Per ora mi fermo qui, anche perché abbiamo detto veramente tanto sulla grafica essenziale, io il consiglio che vi do è provate. Cosa intendo per provate? Beh, andate su un nuovo, un nuovo livello, rettangolo per esempio, e provate a giocare per esempio con le varie proprietà, no? Qui abbiamo visto che c'è il riempimento, ma abbiamo anche la possibilità di avere soltanto un bordo, abbiamo la possibilità di mettere dell'ombra, insomma, giocate un po' con queste opzioni che credo che in definitiva siano anche abbastanza semplici da comprendere. Poi se avete dubbi scrivete qui nei commenti, cercheremo insieme di trovare una soluzione ai vostri problemi. Per il momento vi ringrazio, torno live, eccomi qua, vi ricordo e vi invito a venire sul sito internet fabioambrosi.it per iscrivervi al corso live che faremo, non l'ho detto, su Zoom o su Skype, vedremo un attimino come organizzare questo corso. Quindi se avete voglia di partecipare iscrivetevi, perché appena riusciamo a creare una classe, prendiamo le persone che faranno parte del corso, le metteremo insieme e avvieremo un corso due giorni alla settimana, qualche ora, per imparare tutti insieme ad utilizzare Premiere Pro. È un modo per contribuire, questo, anche al progetto fabioambrosi.it, lo so, non è proprio molto 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 economico, però vi do tutta la mia disponibilità in queste 20 ore e non ve l'ho detto, vi do anche la possibilità di farvi domande anche quando il corso sarà finito. Per i successivi mesi dalla chiusura del corso, tre mesi più o meno, avrete una email a voi dedicata, a cui potrete scrivere e a cui io risponderò quasi subito, cercando di sciogliere i vostri dubbi, anche quando il corso di Premiere sarà finito. Quindi iscrivetevi, fatemi sapere, pre-registratevi, grazie, 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 perché siete veramente tanti, tanti, tanti. Mettete un like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi a questo canale YouTube se non volete perdere anche i prossimi video tutorial, quelli sì, gratuiti, qui su YouTube. Sono e lo saranno sempre. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata, vi auguro il meglio. Ciao! Ciao!